ciao a tutti buoni trovati sul canale di lina eccoci con un altro nuovo video e prima di incominciare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella così restate attornati sulle nuove video che io porterò che vorranno pubblicati su youtube e poi vi voglio ricordare il mio nuovo canale di cucina e natura e cucina mi aspettano anche in quell'altro canale che alla fine di ogni video trovate il mio la mia foto del canale lo stemma del canale non so tecnicamente come si chiama questo momento non lo ricordo comunque c'è una in alto a destra c'è un rotondo che lì potete cliccare e andare direttamente sul mio canale iscrivetevi intanto vi aspetto aiutami a far crescere anche l'altro canale e vi ringrazio a tutti per i vecchi iscritti e nuovi iscritti di questo canale ok detto questo passiamo al nostro video oggi cominciamo con mano 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 questo numero 4 della serie 30 buona bisogna tutta me che passiamo a cattata ok prima vita la fase matita fotocamera solo tamburello pennello ora abbiamo una tv primo cuore colomba secondo cuore una mano roulotte roccelli e cassetta abbiamo solo due cori due cori e una roulotte ok simbolo bonus abbiamo le cuffie le cuffie non ce le abbiamo niente prima bigliettino numero 90 amiche numero 4 passiamo al prossimo passiamo al 20 per numero 24 6 e 46 vediamo che ci dice questa 20 per numero 20 per numero numero 23 abbiamo 16 43 13 21 e 31 primo numero numero 30 qui abbiamo 31 abbiamo 26 niente 14 più 13 32 e 18 niente da fare abbiamo 25 46 e 34 17 e 40 niente 23 non c'è 22 le barbarelle neanche 35 niente 29 e 37 niente secondo questo bigliettino buco nell'acqua questo è il numero 24 questo è il numero 24 46 passiamo alla battaglia navale numero 18 60 20 vediamo la nostra battaglia di notte c7 c7 e4 e4 e2 d7 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 a7 b3 b3 poi abbiamo b4 non ci interessa d3 no d2 dove vuoi essere c4 quanto si fa pizzicare così e d6 niente da quale l'acquaunuz Stan Ok, adesso passiamo a un cuccioletto numero 45 della serie 95, cuccioletto versione canina, vediamo se ci salva lui, partenza destra, destra, giù, sinistra, su, e siamo arrivati, ecco, simbolo, coppa, cuscino, cuore, panchina e cibo, poi abbiamo cuccia, fiore, divano, gabbietta, sapone, palla, calca e lattina, niente. Biglietto 900, sono 4, passiamo al nostro voto forte di oggi, che è tanto tempo che non gratta, un tribo colpo, vediamo un po', questo è il numero 6 della serie 85, ogni tanto mi piace provare, sapete che non li porto spesso questi da 10, però ogni tanto mi piace provare anche a me, facciamo così, lo inquadriamo a poco, perché sono 6 giorni, allora, primo gioco ci dice 10 euro, 50,005 e 10, bene, sta vincente con 10 euro, allora il biglietto l'abbiamo rivolto sicuro, vediamo se c'è qualcos'altro, allora, la stella ci dice 54, 23, 53, 18 e 14, ok, vediamo se ne troviamo qualcuno, 44 cazzi, niente, e 48 neanche, abbiamo 19 e 52, ecco, 18 e 53, naturalmente, abbiamo 29, 49 e 11, niente da fare, 43, 40, 26, non c'è, e 21 neanche, niente da fare, vediamo un po' con i dadi, due dadi uguali ricordo, 4, 6, 2, poi abbiamo 3, 2 e 5, 5, 4 e 1, 6, 3 e 4, niente da fare, meno male, meno male quei 10 euro che sono stati di prima, allora, il biglietto numero 6, abbiamo, si è ribagato, abbiamo preso 10 euro, è stato un recupero di euro, allora, cosa abbiamo gastato oggi, uno da 10, poi due da 3 e due da 5, allora, 4 bordenzi, sono tutti bordenzi, abbiamo ripreso 10 euro, il nostro recupero, abbiamo ripreso il primo colpo, il biglietto è a 10, comunque c'è qualcosa, amici, tanto ringrazio a tutti per la visione, auguro una buona giornata a tutti, iscrivetevi, condivisete, pollice in su, vi do appuntamento al prossimo video, ciao ciao a tutti, buona estate, buon caldo a tutti, ciao ciao, al prossimo video, un bacio e un abbraccio. ciao Grazie a tutti.